è bello allontanarsi per un po' quando sono andato via di casa la cameriera mi ha chiesto dove andassi io le ho risposto dovunque comunque buona giornata avevi una cameriera si anche io con una buona famiglia una buona educazione sarei stata una persona più equilibrata dipende cosa intendi per buona famiglia ecco normale normale tipo un padre una madre un cane cazzate così normale non hai avuto un cane normale non hai avuto un padre normale non ho avuto né cani né un padre normale non mi interessa non mi piango addosso mi sento mi piacerebbe molto parlare con te davvero in questo momento stiamo parlando però ecco io non mi sento non mi sento di poterti stare vicino si è vero in questo momento siamo vicini però ecco vicini come in tanti modi quali ecco non lo so mi piacerebbe starti veramente tanto vicino io vado a letto con gli uomini solo a pagamento io ti amo anche se non mi paghi e allora allora insomma volevo dire niente non importa possiamo restare amici due amici non possono amarsi ciao insomma volevo dire non importa buonanotte però ti amo lo sai questo non ho capito vieni dormiamo Grazie a tutti.